Si arricchisce e si abbellisce il Parco Trulla Polmone Verde del quartiere Pantano. Ora c'è un anfiteatro ad elevare il suo senso comunitario e a creare una vocazione naturale per ospitare rappresentazioni ed eventi culturali. Le spese di realizzazione dell'anfiteatro pari a 15.000 euro sono state sostenute dalla Regione Marche con le consigliere Nicola Baiocchi che ha dialogato in tal senso con il Comune e con le esigenze emerse dal quartiere che ha partecipato al bando partecipativo dedicato. Siamo qui a inaugurare un nuovo parco, io lo chiamerei così, un nuovo parco perché è stato un po' il nostro obiettivo sin dall'inizio quando siamo stati eletti, tutto quanto il consiglio di quartiere, poter dare una visibilità nuova a questo parco che veniva sostanzialmente un po' demigrato oppure maltrattato e quindi abbiamo partecipato a questo bando partecipativo che l'abbiamo vinto grazie anche ai soldi che sono arrivati dalla Regione tramite il consigliere regionale Nicola Baiocchi e abbiamo potuto completarlo sia con l'arena spettacolo che vedete qui dietro alle mie spalle o con la palestra a cielo aperto che è un po' più avanti e il cambio delle reti del campo da calcio, quindi una risestimazione totale. Un nuovo punto dove si potranno anche tenere delle cose teatrali o comunque fare cultura a Pantano, un posto che mancava. È stata un'idea diciamo così lanciata nel momento in cui il sindaco ha fatto il giro per i quartieri e siccome c'era stato questo bando partecipativo dove erano state scelte alcune cose al posto di altre perché erano state fatte diverse, diciamo, pensate diverse iniziative per Pantano, alcune sono state stralciate, mentre invece grazie all'apporto del consigliere regionale Nicola Baiocchi siamo riusciti a portare tutte quelle cose che il consiglio di quartiere aveva pensato. Questo è il quartiere dove sono nato, quindi tengo tantissimo, ho sempre vissuto questo quartiere fino a pochi anni fa e pensavo che potesse essere utile alla comunità avere una fita e altro, un luogo di incontro, un luogo di ritrovo per le famiglie, per i bambini di un quartiere molto importante e molto popoloso della nostra città. Quindi piccolo contributo della regione Marche, però piccoli interventi che a volte servono a cercare di creare ancora momenti di pace, di allegria delle famiglie all'interno della nostra città.